allora ora vi facciamo vedere una cosa interessante qua siamo sulla strada per andare a campenave questa è una tuoniera era un riparo usato nell'ottocento dai pastori in caso di temporale è molto piccolo era un riparo provvisorio e questo che vedete sono le panchine era semplicemente l'accattastamento di pietra e questa comunque è sempre storia dei nostri giorni se contiamo che c'ha anche questa un paio di centinaia d'anni ed è anche bella integra e ve la faccio vedere da di fuori se riesco a non cadere ecco qua